Jonathan, dopo il gol alla Cararesi è arrivato anche il gol contro la Giacomense, sei contento fino a questo momento di come sta andando il tuo anno? Sì, 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 contento e poi lavorando, lavorando sempre tutta la settimana per arrivare al meglio la domenica, no? Poi, veramente, a parte del gol, sono contento pure della prestazione che sta facendo la squadra in queste ultime partite, speriamo di continuare così. È una squadra tecnica, il Chieti, soprattutto in casa, mette in difficoltà l'avversario, forse a volte manca la stoccata decisiva? Sì, sì, questo è vero, ci manca pure quella cattiveria in più, gli ultimi 20 metri, veramente stiamo facendo bene, però dobbiamo migliorare queste cose, a volte arriviamo da soli contro il portiere, però non abbiamo quella tranquillità per fare gol, speriamo che queste ultime partite che ci mancano, speriamo di fare al meglio e mettere il Chieti nei posti che si merita. Tu forse stavi esultando nel momento dell'espulsione di Rosa, però ci hai parlato, hai parlato con qualche compagno, cosa ti hanno detto, perché è arrivato quel Rosso? Non lo so, io ho parlato con lui e lui mi ha spiegato che c'è stata una spinta, nel senso minima, per recuperare il pallone, per portarlo al centrocampo. Io ero di spalle alla giocata, quindi non ho visto niente, però mi ha detto che c'è stata una spinta minima, non era manco per, forse c'era un giallo, però per Rosso veramente no, non credo. Il prossimo avversario è la San Giovannese, un impegno non facile, ne parlavamo anche con il mister, un impegno che il Chieti a questo punto deve cercare di vincere per tenersi nei piani alti. Speriamo di far bene questa partita, sappiamo pure che non sarà facile, perché loro devono fare dei punti, perché stanno lottando pure per la salvezza, e sarà una partita difficile, come tutte le altre. Speriamo noi di continuare così e fare dei punti così per rimanere in playoff. Grazie. Grazie.